Alberto Valentini, uno dei giovanissimi componenti della Proloco, qual è stato il vostro apporto per questa iniziativa natalizia? Siamo partiti subito con l'acceleratore per questi mercatini, il tempo è stato abbastanza ritretto ma credo che siamo riusciti, sicuramente con tanta passione e tanto lavoro, siamo riusciti ad organizzare una bella iniziativa e speriamo che poi nella giornata del 17-18, oltre speriamo una grande partecipazione da parte della popolazione domenica e non solo, e che comunque possa essere apprezzato questo lavoro. Il vostro ruolo qual è stato quindi? Il mio ruolo? Sì. Il mio ruolo all'interno dei mercatini è stato principalmente il coinvolgimento dei giovani, quindi per quanto riguarda le grafiche della locandina, che è stata fatta da Giuseppe Filomeno, una ragazza un po' più grande di me, e ci sarà poi anche una fotografa, sempre una ragazza di 19 anni, solo un anno in più di me, che si occuperà appunto di fotografare i momenti più belli delle due giornate del 17-18. Si chiama la fotografa? Gaia Murgia. Gaia? Murgia. Ok, grazie. Grazie a lei.